Il numero 12 di Mar Al prezzo di 3,90€ Edizione standard Questo l'ho letto E Dio Questo numero mi è piaciuto tantissimo Veramente tantissimo Bellissimo Stupendo Non ho parole per descriverlo Super consigliato Mar Veramente uno shonen Spero di non sbagliarmi Però penso sia uno shonen Bellissimo, stupendo E poi adoro Ecco questa faccia di Oddio mi sono dimenticata il nome di lui Ginta La faccia di Ginta che è spettacolare Cioè è troppo bellino e troppo buccioso Comunque Mar numero 12 A 3,90€ per la GP Publishing Poi Abbiamo una serie conclusa Il numero Ho fatto male con unghie Scusate Perché come si dice Sono un po' lunghe Leggermente lunghe E ogni tanto mi faccio male Comunque E Sempre da GP Publishing Scusate Il numero 1 Il numero 2 Di Seller V Che non ricordo se avevo fatto vedere l'uno Nell'altro video Quindi lo faccio rivedere Ecco Se non se lo avessi fatto vedere Lo faccio rivedere E non l'ho ancora letto Nessuno dei due Perché il tempo Come ho detto è quello che ha Hanno le solite pagina colori Però io prendo L'edizione normale Da Dicola Da 4,50€ Quindi Pagina colori Stupende Ti pare Pagina colori Stupende Ce la posso fare E Non l'ho ancora letto Quindi non Vi so dire Comunque vi faccio vedere anche il secondo Non vi so dire cosa succede Questo infatti è nuovo Non l'ho nemmeno aperto Per vedere le pagine a colori E Non so E Perché Come ho detto Il tempo è quello che è Però Essendo di Seller V Seller V Io lo consiglio tantissimo Il numero 1 Il numero 2 Serie completa A 4,50€ Per la GP Publishing Poi Siamo quasi alla fine Sono 30 minuti di video per ora Passiamo alla Planet Di cui mi ho appreso Sì Kitose O citose Come volete voi Numero 4 Kitose Eccetera Numero 4 Hanno cambiato La copertina Ora Da pillo Devo fare le forze Però va bene Dettagli A 4,30€ E Senza Sopra coperta Nel pagina colori In questa copertina Che io Non la sopporto Mi dispiace Forse qualcuno L'amerà Io non la sopporto Perché Cioè Sentite che rumore fa Quando bisogna aprirlo No Cioè A me non piace Poi C'è gente che gli piacerà Contenti loro Io Non la sopporto Poi Anche perché Rimane Sempre Cioè Così C'è il volume Se lo lascio Rimane così Con la spaccatura in mezzo A me non mi piace Cioè Un volume Deve essere compatto Così Ecco Non Deve rimanerci La riga In mezzo Cioè In parere mio Poi E poi Sto Cioè No Mi dispiace Per la planet Ma io Queste copertine Non mi piacciono Comunque La parte è migliorata Questo va detto Anche se è un po' E trasparente Non so se si vede Però Mi dispiace Per la planet Volevo non migliorare Però Secondo me Ci sono riusciti poco Anche se la carta Per l'amore del cielo È migliorata tantissimo Però La copertina Non mi piace Anche perché Si vede che Qui ci sono due Rilegature Infatti Si vede proprio Rilegature Cioè Come se fossero Due volumi Messi insieme E Questa cosa Non mi piace Comunque Citose Numero Citose Eccetera Numero 4 4,30 euro L'ho già letto E per chi Ama La Yoshizumi Consiglio tantissime Occhitose Per la storia Non per l'edizione Comunque Questo è il mio parere Ognuno Pensa a modo suo Poi Visto che Ormai erano In fase di cambiare Le copertine Cambiamola Pure Per Piss Infatti Piss numero 6 È stata cambiata La copertina Anche se è molto meglio Di quella di Citose Infatti Si può vedere Già da Nella rigatura Che è molto meglio Anche se Fa sempre Quei rumorino Che io Non posso Sopportare Comunque Piss numero 6 È a prezzo Di 4,30 euro Per la Planet Manga Non l'ho ancora letto Quindi non so Dirvi cosa succede E Voglio solo Farvi vedere Una tavola Che io trovo Spettacolare Ed è troppo Scusate Eccola qua Io la trovo Troppo bellina Non lo so Mi piace tantissimo E comunque Piss lo consiglio tantissimo Perché è una storia Che a me Mi ha preso Non è il classico Shoujo Secondo me Più Più Adulti Quindi Se non sbagliano Giosei E E Cioè È un mistero Impressionante Io non ho ancora letto il 6 Comunque è un mistero Impressionante Questa storia Più va avanti Più Cioè io non ci capisco Quasi più nulla Comunque Il numero 7 Uscirà A Non si sa Infatti siamo arrivati A pari con il Giappone Infatti c'è scritto Non ancora Una data di uscita italiana Quindi Bisognerà aspettare Mi sa un po' Poi Comunque Piss numero 6 A 4,30 euro Sono quasi alla fine? Sì Abbiamo poi Imechan No Ribbon Numero 2 A prezzo di 5,90 euro Per la Planet Manga Con Solita Sovracoperta E tutte pagine appassinate Cosa che io Trovo carinissima A parte per il volume Che è piccolissimo Il confronto con Piss Un volumento Piccolissimo E poi C'è anche Artatto Mi piace tantissimo In sedizione È morbidissimo Le pagine sono bianchissime Veramente Un po' spettacolare Anche se un po' trasparenti Sono bianchissime Non faccio vedere altro Per non fare spoiler E comunque Il numero 2 Di 6 Di Imechan No Ribbon Un vero Un fiocco per sognare Un fiocco per cambiare Cioè Il manga Che è stata tratta Poi la serie animata E lo consiglio tantissimo Lamp Al prezzo di 5,90€ Perché io prendo L'edizione deluxe Quindi con sopra coperta E questo posterino Scusate A colori Che io non apro Perché mi sono accorto Che è rotto Cioè infatti Cioè posso provarci A aprirlo Non vorrei fare I cavoli A casini Comunque Si può vedere Che è rotto Infatti Lo lascerò Bello chiuso dentro Carino Anche quando Tentano di fare Edizioni buone La planet Deve metterci Sempre un difetto Non lo so Comunque La pagina Sono bianchissime Vi faccio vedere Solo una tavola Per non fare spoiler E non l'ho ancora letto Quindi non so cosa succede Comunque Gate 7 Numero 2 A 5,90€ Il prossimo Non si sa Quando uscirà Infatti Infatti Per sapere Quando sarà disponibile Il prossimo numero Consultare il sito Quindi non si sarà Non si sa ancora Quando uscirà il 3 Ah Ok Mi sono rimasti Solo 3 volumi Che sono regali Per Natale Allora Intanto Faccio vedere I regali Che mi ha spedito Kira85f Che io ringrazio tantissimo Grazie Kira Cioè Non l'ho ancora letto Perché non ho avuto tempo Ma comunque Grazie Cioè Un regalo stupendo Proprio Grazie 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 Ed è il primo numero Di miei vergogno Da morire Lo so Sono Yoi Però Mi stanno Passiando Yoi E Non l'ho ancora letto Come ho detto Comunque Ringrazio tantissimo Kira Cioè Ti adoro Ti voglio tanto bene Appena posto Spedirò il mio regalo Che è dietro Che non faccio vedere Perché voglio sia una sorpresa Comunque Questa è della Magic Press A prezzo di 5,90 euro Con sopra coperta E Una pagina Colori Non l'ho ancora letto Ma comunque Come ho detto Mi sto appassionando Allo Yoi Anche grazie Da mia amica Perché lei è fissata Quindi mi ha Diciamo Messo dentro E comunque Appena lo leggerò Farò sapere cosa ne penso Faccio vedere una tavola E basta Per far vedere il tratto Che io Che io trovo Che io trovo veramente Stupendo Che io trovo veramente stupendo Comunque Mi vergogno Da non morire Il numero uno E poi Mi ha regalato Sempre Kira Un volume unico Di gelosia Della K edizione A prezzo di 8,50 euro Con sopra coperta Ma niente pagina Colori Anche questo Non l'ho ancora letto Però è sempre Noio E vi faccio vedere Una tavola Per farvi vedere il tratto Che anche questo Trovo bellissimo E appena lo leggerò Farò sapere Che ne penso Comunque Ancora grazie Kira Per questi due regali Che sono stupendi E veramente Appena a posto Le spedirò Il mio regalo Poi Ultimo regalo Da parte dei miei genitori Che io volevo Dattare Cioè appena ho saputo Che usciva Io lo volevo E sto parlando Del volume Unico Cioè Sono due volumi Vessi insieme Di Wolfane Di Quanto che ho vende Bonus Keiko Nobumoto E Toshizugu Iyada Però ve l'ho detto bene Comunque Edizione Della Gp Publishing A prezzo Di 12 euro Un volume Grandissimo E l'ho già letto E è stupenda Questa storia Me ne so proprio Innamorata E vi faccio Ha due Diciamo Due pagine a colori Questa Non ce la posso fare Non ce la posso fare Ecco E poi Una All'inizio del secondo volume Perché sono Come ho detto Due volumi Messi insieme Ed ecco qua Certe immagini Stupende Bellissimo L'ho letto Vagina a colori E un volume Bello grosso Quindi Stupendo E questo è il regalo Da parte dei miei genitori E bellissimo E Ho finito Sì Questi sono tutti i manga Diciamo Presi a dicembre Sono tanti Molti Anche troppi Infatti Dove ho avuto Nocce di nuovo Prima della fine Dell'anno Di nuovo Fumetteria Che prende Altra roba Ah no C'è Qualcosa altro Mi sa No scusate Ma mi sa Scusate No E ho perso Cioè No Veramente Volevo farvi vedere Dei volumi Che ho perso Ah no Eccoli qua Vedi Me l'ho dimenticata Qualcosa Questi sono volumi Mi hanno prestato Mi ha prestato La mia amica Ed è Dal numero Dal numero 10 Al numero 13 Di Hot Club Questo è il 10 Il 11 Il 12 E il 13 Che io devo ancora leggere E che mi ha prestato La mia amica Della Planet Manga Al prezzo di 5 euro e 5 Perché è la prima edizione Basta Con questo veramente ho finito Sono 40 minuti di video Nella mente troppi Spero di non avervi annoiato Non so quando rifarò al prossimo video Ma cercherò di essere Abbastanza Diciamo Come si dice Abbastanza presente Quindi Vi auguro Auguri Cioè Non per buon Natale Perché ormai è passato Però vi faccio Tanti auguri Di buone feste E buon inizio E buona fine E buon inizio anno E vabbè Ci vediamo Al prossimo video Da piccola Kaji E pallocchi è tutto Ciao Ciao